Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Non so voi ma io ho sempre un certo timore a incontrare qualcuno che è definito come grande o che tu ritieni un grande, un grande scrittore, un grande pensatore, un grande religioso, un grande politico. Beh questo oggi è impossibile o comunque qualche altro grande che tu reputi tale. Ho sempre avuto una certa reticenza e sempre di più sono reticente dopo che ho conosciuto alcuni grandi che si sono rivelati umanamente piuttosto piccoli. Ho avuto occasione di incontrarne alcuni per il mio lavoro. Io ho lavorato sia come giornalista sia come autore televisivo per tanti anni e quindi ho avuto anche occasione di incontrare sia diversi personaggi della cultura, della scienza, sia diversi personaggi del mondo dello spettacolo. E non so voi ma ho sempre avuto la tendenza e sempre di più ce l'ho a identificare come grande una persona che umanamente è grande e non soltanto una persona che è ritenuta o anche è perché se l'è meritato l'epiteto di grande per il suo successo o anche per la sua bravura, per la sua capacità. Ecco Ilia Prigojin, il protagonista di oggi, è un grande. Ve lo posso testimoniare. Ho avuto l'occasione di intervistarlo tanti anni fa nel 2000 durante un convegno e si è rivelato veramente una persona di grande umanità, una capacità comunicativa e un'autenticità di energia umana veramente straordinaria. Non lo dimenticherò mai perché è stato uno dei rari momenti in cui ho incontrato una grande persona, dal vivo ecco e non soltanto dalle pagine di un libro. Ilia Prigojin è stato un grande scienziato, premio Nobel per la chimica nel 1977, ma i suoi contributi più importanti, più rivoluzionari, sono nell'ambito della biologia. Usiamo questo termine per indicare il fatto che più di tanti altri scienziati, Ilia Prigojin si è dedicato al pensiero e alla ricerca della realtà vivente, degli organismi viventi, delle leggi fisiche e chimiche che però hanno a che fare con gli esseri viventi, delle leggi fisiche e chimiche che si trasformano quando hanno a che fare con gli esseri viventi. Di origine russa, poi naturalizzato belga, era una persona paccatissima, serafica, ma la sua pacatezza e seraficità nasconde un approccio rivoluzionario e radicale alla fisica e alla chimica e alla biologia. È stato il più importante esponente delle teorie non lineari, della non linearità, del non ordine, delle strutture aperte, della vita insomma. E grazie a questo suo ragionamento, a questa sua prospettiva che ribalta davvero in senso copernicano i presupposti della fisica tradizionale, grazie al suo geniale lavoro, oggi la scienza è un po' meno scienza e la vita è finalmente viva, anche per la scienza. In sostanza Prigojin ci dice tutte le regole della fisica classica, come anche i principi della termodinamica, le leggi della termodinamica, vanno bene, funzionano quando restano nell'ambito di strutture chiuse, ovvero di strutture matematicamente immutabili, secondo la logica scientifica che possiamo racchiudere nell'acronimo MIR, misurabile, isolabile, ripetibile. Questo funziona, certo, per mandare un razzo sulla Luna funzionano benissimo queste regole, questi principi. Il problema si ha quando si viene in contatto con la vita, con gli organismi viventi, con le strutture organizzate degli esseri viventi, con le strutture cellulari, con le interazioni tra organismo e ambiente, eccetera. Quando si incontra la vita, le certezze della scienza classica crollano. E infatti la citazione che vi propongo oggi di Ilia Prigojin è tratta proprio dal suo libro La fine delle certezze. Ecco cosa dice Ilia Prigojin. La fisica del non equilibrio, che è venuta prendendo forma negli ultimi decenni, è in effetti una scienza nuova. Essa ha condotto a nuovi concetti, come l'auto-organizzazione e le strutture dissipative. La scienza classica privilegiava l'ordine, la stabilità, mentre noi oggi riconosciamo il ruolo primordiale delle fluttuazioni e dell'instabilità a ogni livello d'osservazione. A queste nozioni sono associate anche le scelte multiple e gli orizzonti di prevedibilità limitata. Nozioni come il caos sono diventate popolari e hanno invaso tutti i campi della scienza, dalla cosmologia all'economia. Ma i sistemi dinamici instabili conducono anche a un'estensione della dinamica classica e della fisica quantistica e quindi a una nuova formulazione delle leggi fisiche fondamentali. Questa formulazione rompe la simmetria tra passato e futuro affermata dalla fisica tradizionale, comprese la meccanica quantistica e la relatività. Tale fisica associava conoscenza completa e certezza. Date condizioni iniziali appropriate, si poteva esattamente predire il futuro e retrodire il passato. Poiché l'instabilità è qualcosa di incorporeo, il significato delle leggi naturali assume un nuovo significato, esse esprimono ormai delle possibilità. Ecco, ovviamente qui non stiamo a analizzare l'aspetto filosofico della questione, anche se come sentirete in conclusione di questo incontro di oggi. Ilia Prigogine non è affatto un fan della teoria del caos e pertanto la fine delle certezze della scienza classica non significa l'apertura della porta del caos, significa semmai l'apertura della porta della possibilità, come avete sentito, della potenzialità, comunque della non prevedibilità, della non prevedibilità assoluta delle cose. Questo lascia aperti orizzonti nuovi e questo è il punto per noi oggi, non stabilire se Prigogine abbia definitivamente chiuso le porte alle possibilità spirituali o invece ne abbia aperte di nuove per la conoscenza spirituale. Io ovviamente sono di questa seconda opinione, ma non è il punto di oggi. Il punto di oggi è saper esprimere una visione nuova delle cose attraverso la reale ricerca, attraverso l'autenticità della propria sensibilità, attraverso l'autenticità del proprio rapporto, in questo caso con le scienze, più in generale con il proprio lavoro, più in generale ancora con la realtà. Il coraggio di esplorare territori nuovi con grande, grande apertura mentale. Questo è il grande valore, il valore epocale di Ilya Prigogine, un valore che purtroppo oggi è stato dimenticato, perché nel 1996, quando veniva pubblicato per la prima volta questo libro, La fine delle certezze, il mondo della scienza era molto orientato a un tentativo di comprensione, al di là dell'elaborazione di teorie del tutto, era orientato alla integrazione con la ricerca umanistica, cercava un dialogo con la sfera umanistica, con la sfera poetica, con la sfera spirituale, con la sfera anche religiosa. Il tema religione, fede, era un tema molto dibattuto. Tanti libri venivano pubblicati su questo argomento, libri anche di grandi scienziati, penso per esempio a Stephen Jay Gould, il quale era un assertore assoluto del puro materialismo, del puro processo fisico-materialistico dello sviluppo della natura, ma non per questo stigmatizzava la spiritualità o la ricerca che fosse orientata a qualcosa d'altro come a ingenuità o come a stupidità, come avviene oggi. Era un'epoca migliore, senza alcun dubbio, ma l'abbiamo qui appena dietro le spalle recuperare quel filo, quel filo per usare il titolo di un altro celebre libro di Ilya Prigogine, che riallaccia le fila della nuova alleanza tra scienza e fede, per esempio, o tra scienza e umanesimo. E infatti conclude proprio così il suo libro La fine delle certezze. La nuova visione che emerge oggi è dunque una descrizione equidistante tra due rappresentazioni alienanti, quella di un mondo deterministico e quella di un mondo arbitrario soggetto solo al caso. Le leggi non governano il mondo, ma questo non obbedisce neppure al caso. Le leggi fisiche corrispondono a una nuova forma di intelligibilità, espressa da rappresentazioni probabilistiche irriducibili. Esse sono associate all'instabilità, e tanto al livello microscopico quanto a quello macroscopico descrivono gli eventi come possibili, senza ridurli a conseguenze deducibili e prevedibili di leggi deterministiche. E conclude, noi discerniamo nuovi orizzonti, nuovi rischi. Stiamo vivendo un momento privilegiato nella storia delle scienze. Nuovi orizzonti, nuove domande, nuovi rischi. Il rischio, anche del salto nella fede con la conoscenza razionale delle cose. Quindi un rischio nuovo che spalanca nuovi orizzonti, per esempio, che fa porre nuove domande. La scienza stessa fa porre nuove domande, ma non soltanto la scienza fa porre nuove domande. Il confronto tra la scienza e la riflessione, il pensiero, fa porre nuove domande. Queste nuove domande, questi nuovi orizzonti, questi nuovi rischi. Si possono correre soltanto se siamo orientati all'avanzamento, orientati alla ricerca, orientati alla scoperta, curiosi, esplorativi, sperimentatori, pronti a cambiare strada, a capire dagli errori fatti. Questo è l'approccio geniale, grandioso di Ilya Prigojin, che diceva l'ordine galleggia nel disordine. E in fondo tutti noi viviamo una vita in cui, a partire dal disordine, costruiamo il nostro ordine, che viene riscomposto, rimesso in discussione, dal caos degli eventi. Da quel caos cerchiamo di capire qual è la nuova direzione, qual è il nuovo ordine che possiamo costruire? Ma questa è la vita! Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna. Grazie a tutti!